Ecco dottorico, ma almeno ci riscaldiamo un po' camminando, scalando, arrampicandoci, però qua vedo che è un bunker. Queste sono le ultime strutture, quelle più moderne, di fatti sono in cemento armato con dei sistemi di chiusura particolari e sono degli ambienti in cui venivano conservati materiali militari, ora completamente vuoti, sono interrati, cioè non hanno aperture, servivano per stipare polveri o comunque altro materiale militare e di questo modello ce ne sono diversi magazzini, mentre poi più avanti vedremo che ci sono altre strutture più antiche. Grazie a tutti. Grazie a tutti.